Adesso, come si fa a togliere? Sì, sono le ventanere. Aspetta, ce l'avete fatta tutti? Aspetta, come si chiama tutti non mi ricordo da più. Federico, guarda, quando lo metti dentro, si piaccia dentro il po'. Dopo, guarda, là, là. Prova, Federico. Prova, lo prendiamo un po'. Che stiamo facendo? Bravo. Che stiamo facendo? Adesso, lo senta con me, come stai? Sì, si tira con lo dico. Quello piccolino? Adesso, proviamo da qui. a presto Grazie a tutti.